buongiorno e buon inizio settimana a tutti spero che sia stato un bel fine settimana un bel weekend tra l'altro l'ultimo senza gli impegni del milan perché è stata l'ultima sosta poi da qui alla fine della stagione si farà percorso netto ogni weekend ogni sabato ogni domenica ma anche ogni lunedì visto che ormai le partite vengono messe anche di venerdì e di lunedì vedremo giocare il milan il milan che in questo turno giocherà dopo la juve l'inter e il napoli probabilmente al risultato acquisito potrebbe anche essere un vantaggio per il milan e scendere in campo sapendo già cosa abbiano fatto le altre le altre antagoniste per lo scudetto l'inter va a giocare in casa dei bianconeri allenati da massimiliano allegri il napoli va a giocare in casa dell'atalanta senza osimene raccomani squalificati il milan quindi avrà quest'impegno in casa a san siro lunedì sera contro il bologna con uno stadio davvero strapieno si potrebbe raggiungere davvero un numero altissimo di partecipanti sugli spalti per questa partita nel corso della settimana vi daremo anche aggiornamenti per quanto riguarda lo stato della vendita dei biglietti e quindi sarà l'ultimo è stato l'ultimo weekend senza milan purtroppo per la nazionale italiana non ci sarà spazio per per i mondiali la clamorosa uscita dai mondiali nei playoff contro la macedonia lascerà il segno il milan comunque ha prestato due giocatori alla nazionale italiana come florenzi e tonali che giocheranno questa inutilissima partita contro la turchia mentre altri giocatori della nazionale hanno già lasciato il ritiro quindi florenzi e tonali sono stati convocati perché parlo di florenzi e tonali perché in questo video voglio concentrarmi su sulla lista degli italiani che il milan deve inserire nella prossima stagione in vista del prossimo campionato una lista da consegnare alla lega serie a per comporre le rose in vista della prossima stagione in tanti sui social scrivete ma come mai in milan deve tener conto degli italiani o dei form giocatori formati in italia per iscrivere o per consegnare la rosa alla lega serie a in vista dell'anno prossimo perché ci sono delle regole da rispettare e anche il calciomercato viene tra virgolette influenzato da queste regole perché nella nell'acquisizione di giocatori nella composizione della rosa paolo maldini e frederick massara devono tener conto anche di questi di queste regole sono regole davvero molto importanti che devono essere rispettate per l'iscrizione della lista e consegnare poi la lista la lega serie a prima di parlare di questo argomento vi ricordo che mercoledì quindi dopo domani vorrei fare una live con voi su youtube scrivetemi nei commenti quale orario preferita se se preferite alle 12 o alle 18 sostanzialmente potrebbero essere questi due slot in cui fare la live rispondere a tutte le vostre domande quindi direi o 12 o 18 scrivete nei commenti poi magari farò anche un sondaggio sia su youtube sia su instagram in cui voi potete aderire con la vostra preferenza passiamo quindi a parlare di queste famose liste allora i club per diciamo devono sottostare a dei criteri nella composizione delle liste della serie a da comunicare alla lega calcio i criteri sostanzialmente più importanti sono due innanzitutto il numero massimo della rosa deve essere di 25 giocatori in questi 25 giocatori almeno 4 devono essere cresciuti nel vivaio della squadra in questo caso i 4 giocatori devono essere cresciuti nel vivaio del milan altri 4 devono essere cresciuti nel vivaio nazionale cioè nel vivaio di altre squadre in serie a sostanzialmente su 25 8 giocatori devono provenire dai dai vivai dai settori giovanili 4 del milan e 4 di altre squadre poi in più si possono anche aggiungere fuori lista gli under 21 ma questo è un discorso meno stringente perché sostanzialmente il milan in questo momento ha un po di difficoltà nell'andare a pescare giocatori nati nel settore giovanile e cresciuti nel vivaio di altre squadre di serie a tra l'altro per giocatori cresciuti nel vivaio cosa si intende? è importante si intendono atleti che dai 15 ai 21 anni di età hanno trascorso almeno 36 mesi nella rosa di un club italiano che può essere il vivaio del milan o il vivaio di un'altra società italiana la cosa interessante che i giocatori possono essere anche di nazionalità straniera l'importante che questo questo giocatore anche di nazionalità straniera abbia fatto 36 mesi in un vivaio italiano ecco perché che si ad esempio veniva ritenuto giocatore formato italia perché comunque aveva svolto 36 mesi di contratto in un vivaio italiano da quando lui aveva diciamo nell'arco del tempo dai 15 ai 21 anni andiamo ad analizzare la rosa del milan in questo momento giocatori cresciuti nel vivaio del milan potrebbero essere davide calabria tommaso pobega che torna dal prestito dal al torino matteo gabbia che è in attualmente ancora in rosa del milan e potrebbe essere un altro alessandro plizzari questo perché perché plizzari in prestito e potrebbe tornare alla base voi dite come mai come mai ad esempio tonali che non è cresciuto nel settore giovani e del milan può essere inserito comunque nel settore del vivaio nazionale cioè cresciuto in un altro vivaio in questo caso il il breccia infatti lui va inserito nella nella lista di quei quattro giocatori cresciuti in un vivaio italiano insieme ad alessandro florenzi che per questo pensiamo che possa essere sostanzialmente riscattato e poi c'è da capire se rinnova mirante allora mirante può essere inserito nella lista di questi quattro giocatori cresciuti in un vivaio di un'altra società italiana e quindi sostanzialmente ne mancherebbe solo uno se invece non dovesse rinnovare mirante a quel punto il milan dovrebbe andare a pescare due giocatori cresciuti in un settore giovanile in un vivaio italiano che può essere ripeto anche un giocatore straniero ma cresciuto in italia e riempire questa lista sostanzialmente vanno fatti un po di calcoli da quello che abbiamo capito uno due giocatori cresciuti nel settore giovanile di squadre italiane il milan deve andarli a prendere per questo si fa il nome molto spesso di anche di berardi si fa il nome molto spesso anche di scamacca di parisi giocatori che sostanzialmente sono in italia e sono formati nel campionato italiano è un milan che diciamo prevalentemente va a prendere giocatori all'estero anche per questione di prezzo di opportunità ad esempio ad lì che arriva dalla francia dal bordeaux andrà ad aumentare la colonia di stranieri però sostanzialmente poi nella composizione delle liste deve tener conto anche di questo fattore è davvero molto importante quindi crediamo che almeno uno o due giocatori cresciuti in un vivaio italiano possono essere acquistati dal milan nel prossimo mercato estivo poi ovviamente ci possono essere anche degli stravolgimenti perché per esempio al milan dovrebbe tornare caldara però caldara può essere inserito nella lista dei giocatori cresciuti in un vivaio nazionale il problema è che il milan non vorrebbe tenere caldara e rosa quindi sostanzialmente vanno fatti un po di ragionamenti ecco perché stiamo anche dicendo che florenzi molto spesso molto probabilmente verrà verrà riscattato anche per la questione delle liste e nella composizione della della rosa della prossima stagione il milan da quello che sappiamo vuole dare una un'impronta internazionale alla squadra arriveranno giocatori come ad esempio botman non è o ancora fatta l'operazione va comunque molto molto avviata la stessa cosa per origi del liverpool in scadenza di contratto ad lì renato sancis sono tutti i nomi dei giocatori che arrivano dall'estero ma non solo giocatori che arrivano dall'estero va preso in considerazione anche il mercato italiano per la questione delle liste spero di essere stato chiaro approfondimento intero su questa questione qui che ancora in molti mi hanno scritto insomma sui social per cercare di capire meglio la questione del mercato italiano in vista del dell'estate e dell'anno prossimo ci vediamo nel pomeriggio con altri approfondimenti sul mercato e anche poi sul sugli allenamenti del milan e che ovviamente riprenderanno ancora senza tanti nazionali però insomma è cominciata una settimana molto molto importante delicata per il campionato rosso nero